Siamo ad Agnone Cilento, nel comune di Monte Corice, dove questa mattina nella chiesa Madonna del Carmine si celebreranno le nozze del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino e Domenico Migliorini. Attesi le più alte cariche dello Stato, il vice premier Luigi Di Maio, il vice presidente della Camera Roberto Fico e i ministri Giulia Grillo e Sergio Costa. Gli sposi, dopo la cerimonia anuziale, daranno un banchetto per gli ospiti a Punta Licosa e qui intanto ad Agnone cresce l'attesa e aumentano i curiosi. Grazie a tutti. Grazie. Auguri a voi, grazie a voi, grazie a voi, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. 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 Grazie a voi.